Amici e amiche di LegaNerd, bentornati. Io sono Alessio e sono il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Prima di tutto iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina, una storia già sentita ma comunque sempre valida. Ma torniamo alla nostra scienza perché oggi, in 5 minuti, vi racconterò chi è Michael Collins. Quindi, sigla! Michael Collins è uno degli storici astronauti che nel 1969 misero piede sulla Luna. Collins faceva parte dell'equipaggio storico insieme a Neil Armstrong e Abbas Aldrin. Ma a differenza degli altri due più famosi astronauti, Collins non mise effettivamente mai piede sulla Luna e proprio per questo gli fu affibbiato il soprannome di astronauta dimenticato. Collins aveva praticamente la missione di orbitare intorno alla Luna finché i due astronauti, in questo caso Armstrong e Aldrin, finissero la loro missione. Proprio per questo fu definito anche l'uomo più solo nella storia dell'umanità, in quanto in un momento storico come lo sbarco sulla Luna, Collins poteva soltanto guardare dall'alto quello che cosa stavano facendo i suoi due colleghi. Ovviamente la sua missione però fu cruciale. Collins era ai comandi del modulo lunare e continuò a orbitare a 60 migli attorno alla Luna finché Aldrin e Armstrong finissero la loro missione. Ovviamente il ruolo di Collins è stato cruciale, in quanto era l'unico dei tre che sapeva pilotare il modulo lunare e l'unico che poteva riportare appunto gli astronauti a Terra e ovviamente al successo. La vita di Michael Collins è sempre stata un po' all'ombra dei suoi due colleghi, di Neil e di Buzz, ma questo non è stato mai un problema per lo stesso Collins. Nel frattempo che appunto i suoi due colleghi astronauti prendevano successo nelle prime pagine di tutti i giornali e nell'albo della scienza, Collins era tra virgolette il comprimario che ha fatto sì che la NASA potesse riuscire ad arrivare all'ambito successo. L'importanza del ruolo di Collins è ovviamente sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto per i suoi colleghi. Lo ha ricordato il giorno della morte appunto di Michael Collins a causa di un cancro che purtroppo aveva dato a diverso tempo. Lo ha ricordato in un tweet Buzz Aldrin, il suo collega, l'ultimo dei sopravvissuti, in quanto Neil Armstrong è morto nel 2012 all'età di 82 anni. E Buzz Aldrin in un tweet ricorda l'importanza del suo Mike con una frase riferita alla sua autobiografia. Infatti in questo tweet lo stesso Aldrin scrive «Caro Mike, dovunque tu sia andato sarai, avrai sempre il fuoco per portarci abilmente a nuove altezze e verso il futuro. Ci mancherai, riposa in pace». Questo è un riferimento alla sua autobiografia «Caring the Fire, an astronaut's journeys», uscita nel 1974 con una prefazione del celebre aviatore Lindbergh, il primo a effettuare un volo transoceanico tra New York e Parigi nel 1927. Michael Collins fu figlio di un generale dell'esercito americano. Era nato nel 1930 in Italia, a Roma, dove il padre prestava servizio. Passato per la celebra Accademia del West Point, dopodiché approdò all'aeronautica, dove era diventato un pilota collaudatore. Nel 1963 era stato scelto dalla NASA per diventare astronauta. La prima missione a bordo fu con Gemini X, diventando il quarto umano a camminare nello spazio. Un destino che Collins segnava già da bambino, anche se all'epoca voleva andare su Marte, come tutte persone che amano lo spazio e ovviamente ad oggi forse riusciranno ad arrivare, e non sulla Luna. L'Apollo 11, la missione più importante di tutti quanti, ovviamente la missione che tutti ricordano come l'inizio della conquista dello spazio, fu l'ultima missione di Michael Collins senza rimpianti. Nel 1970, infatti, con il grado di generale, lasciò il lavoro più bello del mondo, secondo le sue parole. E lasciò la NASA con ovviamente il periodo più scintillante della mia vita, secondo sempre le parole dette nel 1970 dallo stesso Collins. Subito dopo aver lasciato la NASA e ovviamente l'esercito entrò nel Dipartimento di Stato. Pochi anni più tardi divenne il direttore dello Smithsonian's National Air and Space Museum a Washington. Sovraintendendo alla sua costruzione e inaugurazione nel 1976. La vita di Collins è stata una vita piena di interessi. Ovviamente nell'ultima parte della sua vita ricordiamo i suoi innumerevoli hobbies, dal triathlon alla pesca fino a passare alla pittura. Ma sempre con uno sguardo verso la Luna, perché ogni volta che qualcuno gli facesse una battuta o gli ricordasse l'importanza della sua missione, la sua citazione preferita era sempre e Dio mio sono stato effettivamente lassù. Quindi l'importanza di un comprimario, ma in questo caso di un astronauta, tra virgolette, dimenticato, ma senza ragioni perché è stato veramente importante, è proprio nelle sue parole. Il team di squadra, la potenza del team appunto di Armstrong, Basolding e lo stesso Collins era data dai percentuali del 33, 33 e 33 secondo tutti i vari tecnici NASA, perché tutti erano importanti per la ben riuscita di questa missione. Quindi ricordiamo Michael Collins con uno dei suoi ultimi messaggi che ha lasciato durante la giornata della Terra, il 22 marzo del 2021, con un tweet veramente interessante. Sono certo che se tutti potessero vedere la Terra fluttuare appena fuori dalle loro finestre, ogni giorno sarebbe la giornata della Terra. Ci sono poche cose più fragili o più belle della Terra. Lavoriamo insieme oggi e tutti i giorni per proteggere la nostra casa. Quindi grazie per averci ascoltato, seguite i nostri approfondimenti, fate un bel like e al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!